questo è il mio dpg preferito perché perché ha una colorazione del tutto identica a quella donzella che a pari chiamiamo shiri e guardate che bello questi sono i dpg del 2021 con le colorazioni naturali ho sentito una mangiata sull'artificiale che stavo provando a spinning una bella una bella potta ed era sicuramente la potta di un calamaro ora proviamo a mettere la totanara anche se non sono venuto a fare edging proviamo andiamo è arrivato iscriviti al canale iscriviti al canale